Musica Parlare ai giovani di prevenzione, sensibilizzarli per evitare devianze come alcol, droga, alta velocità un obiettivo che si può raggiungere anche fuori da ogni retorica magari affidandosi a nuovi linguaggi come è stato dimostrato al centro sociale di Giglio a Lavello, il servizio di Antonella Pallante Metti in cattedra non un professore ma un artista e produttore musicale, amante del rap, protagonista di talent e programmi televisivi che parla con il linguaggio dei giovani, gli stessi giovani che fa diventare protagonisti di un video di circa 30 minuti girato a Lavello per la regia di Antonello Sibio in cui si raccontano le stragi del sabato sera è il progetto dell'artista Gerardo Di Benedetto in arte MC Jerry che sta girando l'Italia incontrando soprattutto gli studenti delle scuole proiettando questo medio metraggio dal titolo Sai come si vive questo film racconta un po' le stragi del sabato sera dopo aver fatto un abuso di alcol e quello che succede nelle nostre strade italiane questo film è rivolto soprattutto ai giovani che comunque fanno un uso smisurato di alcol un confronto per far comprendere la pericolosità di determinati atteggiamenti fuori da ogni retorica in un secondo si muore e in un secondo si nasce il mio intendo è quello di sollecitare questi ragazzi di stare molto attenti di essere prudenti perché la vita è molto preziosa è tutto l'informazione da appuntamento alle 23.20 circa grazie per averci seguito e buona serata grazie